Donne in uniforme, sensibilità, empatia, intuito, propensione all'ascolto e alla comunicazione, ma anche gentilezza e determinazione. Caratteristiche tipicamente femminili che rompono in un ambito tradizionalmente maschile come quello delle forze dell'ordine, infondendo nuova linfa e suggerendo diverse prospettive. Anche nella Polizia Municipale di Pordenone la presenza femminile è preziosa e indispensabile. Il Corpo della Polizia Municipale di Pordenone ha in servizio 20 donne, un terzo dell'organico. Svolgono un lavoro importantissimo, non c'è nessuna differenza con l'attività svolta dai colleghi maschi e anzi sono particolarmente determinate nel far rispettare le regole sempre e comunque. Ho lavorato in tranquillità e sto lavorando in tranquillità, anzi è una ricchezza secondo me poter così disporsi di personale maschile che femminile. In questo comando lavoro da circa 30 anni e ho sempre trovato collaborazione e professionalità da parte dei colleghi uomini. Il nostro personale femminile svolge proprio in toto tutti i servizi previsti, quindi li vedete durante le serate, di notte, durante le manifestazioni in cui c'è bisogno anche di essere particolarmente forti e decise e sono anche molto attenti a quelle che sono le problematiche della gente. Hanno, e lo devo dire con orgoglio di comandante, la capacità di ascoltare, di risolvere e poi di riferire per poter ancora fare meglio per il cittadino.